Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro L'arte di credere di Neville Goddard. La preghiera, cioè l'arte di credere ciò che è negato dai sensi, è il fondamentale strumento per realizzare concretamente ciò che si desidera. Con questo scritto Neville Goddard ci rivela come e perché l'azione di credere e pregare crea concretamente ciò che si chiede. Grazie alla fede, alla visualizzazione e all'autosuggestione, ogni persona può entrare in dialogo con la parte subconscia, ossia il Dio dentro di lui, capace di vivere come già esistente un desiderio. Solo così potrà vederlo realizzato. E cominciamo subito a vedere come questo procedimento funziona analizzando alcune delle parti più importanti di questo libro. La forza della preghiera. Pregate per la mia anima. La preghiera fa più cose di quante ne sogni questo mondo. Una frase di Tennyson. La preghiera è un'arte e richiede pratica. Il primo requisito è un'immaginazione controllata. Il suo esercizio richiede tranquillità e pace mentale. Non bisogna usare vane ripetizioni perché la preghiera si fa in segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà apertamente. Le cerimonie che si usano abitualmente nella preghiera sono semplici superstizioni e sono state inventate per dare alla preghiera un'aria di solennità. Coloro che praticano l'arte della preghiera spesso ignorano le leggi che la regolano. Attribuiscono i risultati ottenuti alle cerimonie e confondono la lettera, le scritture con lo spirito. L'essenza della preghiera è la fede ma la fede deve essere munita di comprensione per avere quella qualità che essa non possiede da sola. Se sapeste come vi sentireste se realizzaste il vostro obiettivo allora inversamente sapreste quale stato potreste realizzare se risvegliate in voi tale sentimento. L'ingiunzione di pregare credendo di possedere già ciò per cui si prega si basa sulla conoscenza della legge della trasformazione inversa. Se la vostra preghiera realizzata produce in voi un determinato sentimento o stato di coscienza allora inversamente quel particolare sentimento o stato di coscienza deve produrre la vostra preghiera realizzata. Dovete risvegliare in voi la sensazione di essere e di avere ciò che prima desideravate, ciò che volevate essere o possedere e questo si può fare facilmente contemplando la gioia che avreste se il vostro obiettivo si realizzasse in modo da vivere, muovervi, avere il vostro essere nella sensazione che il vostro desiderio si sia realizzato. Quindi vivere in un ipotetico futuro che lo potete immaginare ma non lo possedete adesso o per certi aspetti sarebbe come vivere in un sogno. Nessuno vi può impedire di sognare, di immaginare quella vita. Questa legge spiega perché la fede è la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza delle cose che non si vedono. Se un fatto fisico può produrre uno stato psicologico, uno stato psicologico può produrre un fatto fisico. Se l'effetto A può essere prodotto dalla causa B, allora inversamente l'effetto B può essere prodotto dalla causa A. Perciò le cose che desiderate quando pregate credete di averle ricevute e le avrete. Un concetto chiaro della doppia natura della coscienza dell'uomo deve essere alla base di ogni vera preghiera. La coscienza comprende una parte subconscia e una parte cosciente. La parte infinitamente più grande della coscienza si trova al di sotto della sfera della coscienza oggettiva. Il subconscio è la parte più importante della coscienza, è la causa dell'azione volontaria. il subconscio è ciò che un uomo è, la coscienza è ciò che un uomo sa. La coscienza e il subconscio sono una cosa sola, ma il subconscio è più grande della coscienza. Ciò di cui siamo consapevoli è costruito a partire da ciò di cui non siamo consapevoli. I nostri assunti inconsci non solo influenzano il nostro comportamento, ma modellano anche la nostra esistenza oggettiva. Solo loro hanno il potere di dire facciamo l'uomo manifestazione oggettiva a nostra immagine e somiglianza. La preghiera è la chiave che apre il magazzino infinito. La preghiera modifica o cambia completamente i nostri presupposti subconsci. È un cambiamento di presupposto e un cambiamento di espressione. La mente cosciente ragiona in modo induttivo a partire dall'osservazione, dall'esperienza e dell'educazione. Pertanto trova difficile credere a ciò che i cinque sensi e la ragione induttiva negano. Il subconscio ragiona in modo deduttivo e non si preoccupa mai della verità o falsità della premessa, ma procede sulla base del presupposto della correttezza della premessa e oggettiva i risultati che sono coerenti con la premessa. Questa distinzione deve essere ben chiara a tutti coloro che vogliono padroneggiare l'arte di pregare. Non si può avere una vera comprensione della scienza della preghiera finché non si comprendono le leggi che regolano la natura duale della coscienza e non si comprende l'importanza del subconscio. La preghiera, l'arte di credere a ciò che viene negato dai sensi, ha a che fare quasi interamente con il subconscio. Attraverso la preghiera il subconscio viene suggerito ad accettare il desiderio realizzato e il ragionamento deduttivo e logico lo porta al suo legittimo fine. La mente soggettiva è la coscienza diffusa che anima il mondo, è lo spirito che dà vita. In tutta la sostanza c'è un'unica anima, la mente soggettiva. In tutta la creazione scorre quest'unica mente soggettiva ininterrotta. Pensiero e sentimento fusi in convinzioni le imprimono modifiche, le affidano una missione che essa esegue fedelmente. La mente cosciente origina le premesse, la mente soggettiva le dispiega fino ai loro fini logici. Se la mente soggettiva non fosse così limitata nella sua capacità di ragionamento, l'uomo oggettivo non potrebbe essere ritenuto responsabile delle sue azioni nel mondo. L'uomo trasmette le idee al subconscio attraverso i suoi sentimenti. Il subconscio trasmette idee da mente a mente attraverso la telepatia. Le vostre convinzioni inespresse sugli altri vengono trasmesse a loro senza che ne abbiano consapevolezza o consenso e se accettate inconsciamente influenzano il loro comportamento. La mente soggettiva è completamente controllata dalla suggestione. Immaginazione e fede. Con il potere dell'immaginazione tutte le persone, certamente quelle fantasiose, lanciano continuamente incantesimi e tutte le persone, specialmente quelle non fantasiose, passano continuamente sotto il loro potere. Se posso lanciare involontariamente un incantesimo sulle persone non c'è motivo di dubitare che io sia in grado di lanciare intenzionalmente un incantesimo più forte. Tutto ciò che può essere visto, toccato, spiegato, discusso per l'essere umano immaginativo non è altro che un mezzo perché egli funziona grazie alla sua immaginazione controllata nel profondo di se stesso dove ogni idea esiste in sé e non in relazione a qualcos'altro. In questa persona non c'è bisogno dei vincoli della ragione. L'unico vincolo a cui può obbedire è il misterioso istinto che gli insegna a eliminare tutti gli stati d'animo diversi da quelli del desiderio, da quello del desiderio realizzato. L'immaginazione e la fede sono le uniche facoltà della mente necessarie per creare condizioni oggettive. Dipende dalla capacità di sentire e accettare come vero ciò che i sensi oggettivi negano. Il controllo del subconscio è il dominio su tutto. Ogni stato obbedisce al controllo di una mente. Il controllo del subconscio si ottiene attraverso il controllo della vostra convinzione, che a loro volta sono il fattore onnipotente degli stati visibili. L'immaginazione e la fede sono i segreti della creazione. Per pregare con successo è necessario avere obiettivi chiaramente definiti. Dovete sapere cosa volete prima di poterlo chiedere, bisogna sapere cosa si vuole prima di sentire che lo si ha e la preghiera è il sentimento del desiderio realizzato. Non importa cosa si cerca nella preghiera, né dove si trova, né chi riguarda, non dovete fare altro che convincervi della verità di ciò che desiderate vedere manifestato. Quando si esce dalla preghiera non si cerca più perché se si è pregato correttamente si è assunta inconsciamente la realtà dello stato cercato e per la legge della reversibilità il subconscio deve oggettivare ciò che afferma. La vostra coscienza è la luce riflessa sullo specchio della vostra mente e proiettata nello spazio verso colui al quale pensate. Parlando mentalmente all'immagine soggettiva nella vostra mente fate vibrare lo specchio della vostra mente. la vostra mente vibrando modifica la luce della coscienza riflessa su di esso. La luce modificata della coscienza raggiunge colui verso il quale è diretta e impatta sullo specchio della sua mente, fa vibrare la sua mente in base alla modifica che subisce e in questo modo riproduce in lui ciò che è stato affermato mentalmente da voi. Le vostre convinzioni, i vostri atteggiamenti mentali modificano costantemente la vostra coscienza mentre si riflette sullo specchio della vostra mente. La vostra coscienza modificata dalle vostre convinzioni si oggettiva nelle condizioni del vostro mondo. Per cambiare il vostro mondo dovete prima cambiare la vostra concezione di esso. Le parole soggettive, le supposizioni inconsce risvegliano ciò che affermano. La distanza, così come viene percepita dai sensi oggettivi, non esiste per la mente soggettiva. Anche se fisicamente si è separati da un luogo di migliaia di chilometri, si può vivere mentalmente in quel luogo lontano come se fosse qui. L'immaginazione può facilmente trasformare l'inverno in estate, New York in Florida e così via. Che l'oggetto del vostro desiderio sia vicino o lontano, i risultati saranno gli stessi. Soggettivamente l'oggetto del vostro desiderio non è mai lontano, la sua intensa vicinanza lo rende lontano dall'osservazione dei sensi. Dimora nella coscienza e la coscienza è più vicina del respiro, è più vicina delle mani e dei piedi. I risultati saranno evidenti quanto la causa era nascosta. Il soggetto esprimerà lo stato risvegliato in lui e rimarrà inconsapevole della vera causa della sua azione, dice Goddard. La vostra illusione di libero arbitrio non è altro che l'ignoranza delle cause che vi fanno agire. Le immagini visive, i suoni mentali e le azioni mentali sono creazioni della vostra immaginazione e, sebbene sembrino provenire dall'esterno, in realtà provengono dall'interno di voi stessi. Si muovono come se fossero mosse da un altro ma in realtà sono lanciate dal vostro spirito, dal magico magazzino dell'immaginazione. Sono proiettate nello spazio dalla stessa legge vibratoria che regola l'invio di una voce o di un'immagine. La mente soggettiva vibra in base alle modifiche subite dal pensiero e dai sentimenti dell'operatore. Lo stato visibile che si crea è l'effetto delle vibrazioni soggettive. Un sentimento è sempre accompagnato da una vibrazione corrispondente, cioè da un cambiamento di espressione o di sensazione nell'operatore. L'energia, come si vede nel caso della radio, viene trasmessa e ricevuta in un campo, un luogo in cui si verificano cambiamenti nello spazio. Il campo e l'energia sono una cosa sola e inseparabile. Il campo o il soggetto diventa incarnazione della parola o dell'energia ricevuta. Il pensatore e il pensiero, l'operatore e il soggetto, l'energia e il campo sono una cosa sola. Il nostro comportamento è influenzato dal nostro presupposto inconscio rispetto al nostro rango sociale e intellettuale e a quello della persona a cui ci rivolgiamo. Cerchiamo ed evochiamo il rango più alto e il più nobile di tutti e quello che spoglia l'uomo dalla sua mortalità e lo riveste di una gloria immortale e intatta. Le nostre assunzioni inconsce si esternano continuamente affinché gli altri ci vedano consciamente come ci vediamo inconsciamente e ci dicano che le loro azioni, attraverso le loro azioni, ciò che abbiamo inconsciamente assunto di essere. Quindi, come abbiamo spesso spiegato nei libri di Goddard, le persone che incontriamo ci dicono quello che noi pensiamo di noi. Quindi loro semplicemente sono lo specchio dei nostri pensieri, delle nostre assunzioni, delle nostre convinzioni. E se vogliamo attirare qualcos'altro là fuori, dobbiamo prima cambiare quello che abbiamo dentro, dobbiamo cambiare i nostri pensieri, le nostre conversazioni interne, le nostre convinzioni. Questo era l'inassunto del libro L'arte di credere di Neville Goddard, un libro che ci rivela come e perché l'azione di credere e pregare crea concretamente ciò che si chiede. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!